Nella bassa reggiana noi avevamo, tra Limidi, Soliera, Carpi, insomma tutta quella zona lì, noi avevamo un po' ammassato tutte le nostre forze, molte delle nostre forze, perché lì tutte le case erano con noi, tutti i posti erano... E avevamo avuto anche un periodo che la chiamavamo una zona libera, cioè che non c'entrava nessuno. Però c'è stato, tra i nazifascisti, si vede che per quella zona lì ci avevano ragionato su anche loro, non solo noi. Allora a un certo punto hanno deciso di fare un rastrellamento per liberare la zona, ma un rastrellamento con delle forze, con delle mitragliatrici, con delle forze pesanti, delle armi pesanti, per liberare questa zona che avrebbero distrutto un po' tutta la nostra organizzazione, diciamo. Allora ci siamo riuniti al comando, qui c'è da andare, c'è la solita storia della staffetta che deve partire e deve affrontare questo combattimento, perché era un vero combattimento quello lì, di forze, e andare a visare tutti i nostri, perché se no li massacrano, se non sono pronti a affrontare questo rastrellamento. E se non sono pronti per affrontare, vuol dire che si ritirano in tempo prima di essere tutti massacrati. Un bel momento dico, allora ci vado io, della zona ero già pratica, perché là ci andavo spesso, e avevamo tutte delle famiglie di contadini che erano delle famiglie meravigliose, e dico parto, datemi la rivoltella e vado. Gli ordini più o meno, quelli che si poteva, si tenevano nel cervello, e si tiravano fuori quando era il momento, e vado. E allora incontro questa pattuglia e cosa faccio? Mi timano l'alto, io tiro fuori la mia rivoltella e sparo. Sparo mentre vado in bicicletta, e vado, e sparo, fin quando riesco e continuo ad andare, vedo che continuo ad andare, e vado, e arrivo al punto giusto dove mi potevo fermare, e dovevo poi avvisare tutti quelli che dopo si sono andati lì, poi abbiamo fatto presto a darci voce e così. E sono riuscita a passare tramite questi spari, queste pallottole, questo disastro, perché quando c'erano loro che sparavano non avevano bisogno di risparmiare una pallottola perché dopo là non ce l'ho. Cioè noi dovevamo fare anche questo, ma loro ce n'avevano in abbondanza. E si sono riuscita, è riuscito il combattimento, è riuscito tutto, e si sono salvati, ed è andato tutto bene. E a pensarci noi ridiamo, ma si sono salvati, sai quanti ragazzi si sono salvati, che potevano morire quasi tutti perché li prendevano in un momento che... Io non sapevo neanche che questa era stata, cioè che era stato un episodio conosciuto, eccetera, perché mi sono visto un giorno arrivare a casa i carabinieri e che mi davano questa notizia, che mi era stata, che ero stata premiata dall'esercito, dall'esercito, dallo Stato, insomma, di questa medaglia d'argento al valore militare, che io ne sono stata proprio molto orgogliosa, che non sapevo che da questo potevo anche guadagnarmi questa bella medaglia che diciamo me la sarò meritata.